Ciao ragazze, oggi farò l'estrazione del giveaway dei 1000 iscritti. Sarà un'estrazione un po' diversa perché YouTube ha cambiato l'impostazione dei commenti ai vari video, quindi non sarà la solita estrazione segnando i numeri delle varie pagine. Come vedete qui ho tutto l'elenco dei 565 commenti. Allora, tralasciando il primo, che è questo, è il mio commento, io vado a selezionare dal primo nome e scorro tutta la pagina con tutti i commenti. Dopo aver selezionato tutti i commenti, faccio un copy e incolla all'interno di questo spazio. A questo punto devo soltanto più randomizzare il tutto. Il primo nome che mi appare è il seguente, ve lo zoomo, che è Tenerezze di Fimo. Tenerezze di Fimo, tu sei la vincitrice del mio giveaway. Adesso copiamo il nome e andiamo a guardare se è presente tra i miei iscritti. Quindi, eccola qua. Tenerezze di Fimo è iscritta al mio canale, quindi sei tu la vincitrice del mio giveaway. Mi raccomando, attendo un tuo messaggio entro tre giorni lavorativi e contattami lasciandomi il tuo indirizzo, i tuoi dati. Se sei minorenne, fammi contattare da un tuo genitore che mi dia il permesso per spedirti i premi. Io vi ringrazio tutte quante, come vedete ho ulteriormente superato i mille iscritti e anche le centomila visualizzazioni. Vi ringrazio con tutto il cuore e spero che continuate a seguirmi, che non vi cancelliate dopo i vari giveaway perché è anche grazie a voi che il mio canale aumenta. Grazie a voi, sì, io sono stimolata a continuare a fare tutorial, video e tutto quanto, anche se ogni tanto ne faccio un po' di meno per un problema di tempo, più che altro, che magari ho poco tempo, non per altri motivi. E niente, non mi dilungo oltre, non voglio che questo video sia troppo lungo. Complimenti alla vincitrice. Grazie, 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 grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie mille a tutti voi. E niente, vi saluto e visto che si avvicina Natale vi auguro tante buone feste e un felice anno nuovo. Ciao!